Bene, mi hanno consigliato di portarci un video. E io cosa fò? Ne porto uno. Nella speranza di non perdere, ovviamente. Bene, dai, allora ci siamo quasi. E... mi mancano... Spero di non perdere perché mancano comunque due partite per... per tornare a Platino, che l'ultima stagione l'ho finita. Platino 2, quindi... Vediamo un po'. Allora, qua di solito qualcuno ci si potrebbe mettere... Eh... No, sono contento che ci sono gli inglesici che lo parlano bene. Allora, non so come potrebbe uscire se parlo tanto, se parlo poco, se... non so. Ah, vedremo, insomma. Erano sotto, quindi qua sotto non c'è no. Niente di niente. E c'è uno lì. Io posso andare con i miei amici... da qualche parte. Beh, tanto stanno facendo tutto loro, quindi... Insomma... Ci va più o meno bene così a noi. Eh... no, ma insomma... Wai, 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 wai... Err... Err... Ok. Nice... Sbranzi... I capranzi... Ah, vabbè, dai. Ok, era a sinistra, ottimo. Allora, visto che io sono fast, vado a chiudere la b-b-b-b-b-botola. Prendiamo questa per i dronettini... che vengono a romperci le palle. Eh... Eh, vedi. Magari vado a rinforzare anche l'altra botola. Che è meglio. Ehi, lei mi fuori siamo. Meno male sono fast e rigno... e arrivo velocemente... all'obiettivo. Ehi, lei mi fuori. Non riesco a rinforzare anche l'assalto. Ehi, lei mi fuori. Ops. Sorry. Che cazzo mi ha tolto il coso? E io ho fatto la bua. Qua chiudo. Ma qui non è rinforzato? Cazzo. Buck. Chi vincerà? Io o Buck? Io. Io ho ucciso il Buck in la stanza della garage. E ho ucciso, non ho, non ho, non ho, ma ho ucciso qualcuno. Ok, c'è la stanza della garage. Ah, c'è la montagna. Bene. O c'è la montagna, o c'è qualcun altro. Non si sa. Uuuuh. Aaaaaah! Male. Male tanto. Tanto, 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 tanto male. Io metto qui due cosini perché fanno sempre bene, dai. Ciao, merda, sono in kitchen. Ok, e là. Ha fatto fuori arcade uno. Uuuuh. Verano, ok. Ok, cioè, mi sa che sia o montagna, o blitz, o... Ok, c'è blitz in the hatch. No, 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 ho ricaricato. Dai, su. Bravo, che ti sei fatto uccidere. Ok, allora, da quello che so, c'è... Ehm... Lesion, che dovrebbe essere garage. Ok, ce l'ho fatta. Buttarlo giù. Sembra che ci sia... Ah, sopra. Ok. I think there was... Ehm... Lesion near the garage. Dai, no, è uscita. Che puttana. Ora controllo io. Eh, di nuovo, Ella ha fatto la sua. Ok. Ok, credo abbia ucciso Ella. Probabile. Allora, mandiamo il nostro dronettino. Bidi, 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 bidi. Wait, eh, Termite, I'm gonna... I'm going with the drone. So. You have... A dock in the left... Of the door. And, eh... There is a frost, eh... By the objective. Allora. Allora, vediamo se tipo arriva frost. Ah, si sta curando il pezzo di merda. Vediamo se in due... Ok. Ce l'avevamo fatta. Ok, c'è uno là. Ok, se ne è andato. Cav. Mi ha ucciso. Ha ucciso tutti e due. Cazzo, poca vita aveva. Che palle quando Caveira ha il pompaccio che distrugge tutti. Ed è pure un bel livello 161. Allora, difendiamo bar. E' nulla, distrugge tendendo bar, basta. Comunque, se vedi, c'è un tic tenere il tavolo, non so perché c'ho questo tic. Comunque... Il ping è... Insomma. Nè. Ci sta. Tanto è sempre a cento quando va bene. E ci continuiamo. Basta! Ma... Basta! Oh... Maremo. Eh... Eh che cazzo. Allora. Mi sto che qua... Possono arrivarci. Si fa così. Qua si fa... In questo modo. Qua si fa così. E qui si infila. Questa roba. Esattamente così. Bene. Allora. Io di solito mi metto qua sopra per vedere quella finestra. Però... Credo sia un po' un problema. There's someone at the window here. Ehi. I think someone is in kitchen. I killed bird bird. Ok. Addio, black bird. Mi sa che c'è qualcuno all'entrata... Principale. Ok, sì. Alguien at the main entrance. Ok. Ok. Decisa quella all'entrata... Principale. Sei in una zona controllata dal nemico. Lasciala subito. Dov'è? 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 Andiamo a caccia di termite. Ok. Volevo fare il giro. Ok, allora. Abbiamo... Sì, abbiamo... Abbiamo... Stiamo o abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato? Bene. Abbiamo iniziato. E lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Ben e' round l'abbiamo perso. Quindi... Quindi nulla, insomma. L'abbiamo perso. Fanculo mondo. Erano rimasti uno contro uno. Ovviamente Caveira. Ibane. E ha vinto Caveira. Ovviamente, aggiungerei. Questo lo mettiamo proprio verso di qua. Questo lo mettiamo qui al centro e via. Mentre qua ne mettiamo uno qua. E uno qua. Spero che non mi arrivino colpi dalla finestra. Aiuto. Sta già succedendo qualcosa. Ok. Mi metto... Qui. Non asper se bucano la botola. Credo che io... Boh. Mi ammazzo da solo. Adesso gli incasino i meridiani. La mamma Zocco la deve avere. La mamma molto Zocco la dovrebbe avere lui. Sono passata io. Ma molto. Questo era uno shotgun. Quindi questo è Buck. Quindi. Preghiamo Gesù. Perda via 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 via. Aiuto aiuto aiuto. Allora. Ehehehe. Oh. Bravo. Grande zio. Fica. Fica. Ah. Ma lì è stato bucato. Ok. Vediamo se... Mi imposiziono in questo modo. Riesco a fare qualcosa. Bene. Già 5 contro 2. Io sparo perché vedo cose muovere. Allora. Potrebbe essere qui. Sto vecchio di merda. Vieni fuori. Lo vedo l'ombra. Ok. Che è il Buck. E dai. Vediamo se ce ne fosse qualcun altro. Nessun altro? Basta. Fine. È finito? Non c'è più nessuno? Ehi. Amici. 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 Dai. Quello non è FK mai nella vita. Ok. Ok. Oh. Bene. Bene. Abbiamo vinto insomma. Ottimo direi. Era veramente FK. Denzo. Ah non sono finito primo. No. Ah cosa si è preso il set. Il set gold. No. Il set gold. Sì. No. Il set pro oblig. Ah. Terzo set. So set. Io direi. Essendo che è andata bene. Oh. Vediamo se ci dà il pacchetto. Eh. No. 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 No.